Una berlina da pista, così può essere definita la nuova Honda Civic Type R, una 5 porte con assetto altamente sportivo. Le forme, già sullo stile performante, esaltano l'aerodinamicità del veicolo. Infatti i piccoli accorgimenti alla carrozzeria migliorano la stabilità, oltre a dare un rinnovato stile alla Type R, riconoscibile grazie all'alitone posteriore. Il tono sportivo si nota anche all'interno, tra i sedili, i colori e il pomello del cambio. Ed arriviamo al motore, a rendere cattiva la Type R è un 2000 turbo benzina da 320 CV e 400 Nm di coppia, per una velocità massima di 272 Km orale. Anche altre caratteristiche la rendono un'auto da pista. Trazione anteriore, differenziale meccanico autobloccante, ammortizzatori a controllo elettronico, sterzo a passo variabile e acceleratore Drive by One, un assetto altamente sportivo con specifici sistemi di guida, Sport e Plus R. E con questi strumenti, andare in pista è sicuramente divertente, per capire quali sono le massime prestazioni. Ma le 5 porte le danno simpaticamente anche un'area da città, da berlina per il traffico quotidiano. Inserita la modalità Comfort, si gira agilmente per l'urbe, ma è impossibile passare inosservati. E qui siamo aiutati dai vari sistemi di assistenza alla guida che porta con sé nel pacchetto ADAS, come il cruise control adattivo con allarme e distanza di sicurezza, la frenata automatica di emergenza, le telecamere per l'angolo cieco e il sistema di mantenimento automatico della carreggiata.